Oggi sono state gettate le basi per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili nella provincia di Firenze. Stamani infatti è stato siglato l'atto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro, CERCA, acronimo di Comunità Energetiche Rinnovabili con divisione ambiente. I fondatori sono una decina di cittadini, l'impresa Goti SNC, il Circolo Arci di Calenzano e l'associazione di volontariato assieme. Estraclima sarà partner tecnologico e gestionale. È un'attività che esploderà e che porterà grandi benefici alle famiglie, alle imprese, alla sostenibilità e alla povertà anche energetica. Non appena sarà pubblicato l'ultimo decreto attuativo, la nuova realtà sarà pronta a dare gambe al progetto mettendo in condivisione l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici degli aderenti. Estraclima, se necessario, potrà realizzarne di nuovi per garantire un bilanciamento costante tra domanda e offerta. contribuire a investire sul territorio per la realizzazione di impianti che favoriranno la crescita dei consumatori e quindi anche l'incentivo e la restituzione a favore dei consumatori che non sono dotati di impianti. La sua remunerazione è una percentuale sugli incentivi che arriveranno dalla rete pubblica ai membri della comunità. Ecco com'è possibile farne parte ricordando che c'è libertà di entrata e di uscita e che non è richiesto il cambio del proprio gestore. Disponibile sul portale di Estraclima una home page dedicata dove potrà fornire i propri dati, nome, cognome, pod eccetera. Non saranno previste quote di iscrizione. Dentro la stessa associazione saranno presenti più comunità in base alle cabine primarie, ossia i punti della rete pubblica che servono a una determinata zona che prescinde dai confini comunali. Compito di Estraclima sarà anche quello di raggruppare le adesioni per cabine primarie. Prossime comunità energetiche in arrivo con l'aiuto della società del gruppo Estra sono quelle della Val di Bisenzio e di sei amministratori di condominio di Prato.